Ecco, ogni 3-4 settimane cercheremo di organizzare qualcosa, perciò vi invito a seguirci sui nostri canali. Poi nella chat vi scriverò meglio come poterci seguire, comunque abbiamo il sito che è accessibilidades.it e la newsletter, oltre ovviamente ai canali di CodeMotion. Oggi ripartiamo parlando di sviluppo, accessibilità sullo sviluppo mobile, quindi su Apple Mobile, argomento che abbiamo già trattato in passato, questa volta potremo farlo anche con qualcosa di più concreto, nel senso che avremo un vero e proprio che è Stadi, grazie ai ragazzi che hanno sviluppato l'app WeBus per la mobilità e il trasporto pubblico, che è già tra l'altro utilizzata in importanti città come Bologna. Abbiamo oggi la possibilità di avere qui tra l'altro due sviluppatori, Roberto e Rubens, oltre anche a Simone, che non so se riusciremo a contattare. Se ci sei Simone, batte un colpo? Sì, sì, ci sono. Ok, c'è anche Simone. Non so se... ecco sì, ben trovato. Ciao, grazie Stefano. Io volevo lasciare sicuramente spazio agli sviluppatori perché volevo dare questo, diciamo, questo focus proprio sugli sviluppi. WeBus è un'applicazione che già da diversi anni è disponibile sul bacino di Bologna, Imola e Ferrara ed è un'evoluzione di una prima applicazione che si chiamava T-Bus che è stata spenta recentemente, che è stata la prima nostra collaborazione con l'Unione Italiana Scechi quando all'epoca ancora l'accessibilità sulle applicazioni non era così avanzata. Adesso sono stati fatti parecchi passi in avanti, anche la sensibilità è aumentata di molto. Noi abbiamo sempre appunto lavorato, quando abbiamo sviluppato e aggiunto funzionalità man mano alle applicazioni abbiamo sempre cercato di mantenere il focus anche sull'accessibilità proprio perché sapevamo che anche la nostra applicazione è molto utilizzata soprattutto dai non vedenti anche. Quindi volevo un attimo vedere, dietro le quinte, insomma come nella tecnica è possibile con un po' di accortezza realizzare un'applicazione che sia attenta all'accessibilità. Diciamo faremo vedere un po' di tecniche che abbiamo utilizzato nello sviluppo di WeBus e alcune cose che ancora non sono neanche disponibili attualmente ma che verranno rilasciate in una versione successiva. Ovviamente prima via. Esatto, per l'occasione i ragazzi hanno praticamente sviluppato un concept giusto per vedere insieme proprio dal punto di vista tecnico il codice e le tecniche. quindi io lascerei a questo punto la parola a Roberto che diciamo si è occupato dello sviluppo della parte iOS e Rubens che si è occupato dello sviluppo della parte Android. Così vedremo anche un po' la differenza tra le due piattaforme. Ciao a tutti, io sono Roberto, sono un iOS developer presso BitApp che è l'azienda che attualmente detiene WeBus e come prima cosa vorremmo farvi vedere una carrellata, insomma una demo sull'attuale applicazione WeBus che vi presenterà Rubens con la mia condivisione schermo. Passo la parola a Rubens. Ciao a tutti, attendiamo la condivisione. diciamo che abbiamo diviso l'intervento in due parti fondamentali la prima prevede diciamo una visione generale sull'app come attualmente per vedere diciamo le funzionalità disponibili e quindi anche le criticità dal punto di vista dell'accessibilità. Le funzionalità di WeBus sono soprattutto incentrate su il tempo reale quindi i passaggi dell'autobus a una fermata scelta dall'utente che può essere ricercata in vari modi e come può essere visto da questa schermata può essere anche visualizzata nelle vicinanze in questo caso non ci sono fermate nelle vicinanze suppongo sia perché la posizione non è attiva. No, scusa mi permetto non ci sono fermate nella zona perché io attualmente mi trovo in Sardegna sei in Sardegna giusto quindi ci sta che... La zona... esatto, è Bologna-Imola-Ferrana mi sembra... in cui attiva Bologna. Quindi già da questa schermata in realtà possiamo vedere uno dei problemi che sono stati evidenziati nell'analisi dell'accessibilità per quanto riguarda le persone non vedenti. WeBus è nata con questo schema con le preferite in cima e le fermate vicine invece in una seconda sezione più in basso. Ci è stato fatto notare effettivamente nel tempo che all'aumentare del numero delle fermate preferite le fermate vicine praticamente scomparivano dallo schermo e andavano molto in fondo e per poter arrivare alle schermate vicine era necessario scorrere con l'utilità di accessibilità che su iPhone e VoiceOver tante volte. Quindi un primo intervento che è stato fatto da questo punto di vista è stato impostare o permettere di impostare quale delle due sezioni visualizzare per prime. Quindi attualmente nelle impostazioni è presente un'opzione che appunto permette di mettere prima le fermate vicine che quindi dato che sono limitate a 5 perché comunque in genere non c'è necessità di avere troppe fermate nelle vicinanze sono diciamo si possono scorrere in maniera abbastanza veloce per poi arrivare eventualmente alle preferite. Entrando all'interno di una fermata compaiono gli orari in tempo reale. Non mi dilungo sulle questioni tecniche dell'accessibilità in questo momento perché le vediamo magari dopo comunque da questa schermata che è il punto di ingresso per tutte le informazioni relative a una fermata e quindi potenzialmente le informazioni che interessano all'utente è possibile andare in diverse altre schermate che forniscono ulteriori informazioni riguardo il percorso dell'autobus la posizione dell'utente rispetto al percorso dell'autobus le indicazioni per andare alla fermata dell'autobus nel caso in cui l'utente non fosse nelle immediate vicinanze gli avvisi relativi a eventuali deviazioni e altre informazioni simili. Negli orari è presente anche l'informazione sul fatto che l'autobus abbia o meno la pedana per la sedia a rotelle e in caso ci fosse verrà mostrato anche il numero di matricola dell'autobus in modo che possa essere riconoscibile nel caso in cui ci fossero più autobus in una stessa linea in arrivo contemporaneamente. È possibile anche visualizzare gli orari previsti che permettono la scelta di un determinato giorno o anche del giorno corrente di default e quindi è possibile consultare gli orari di tutta la giornata e della giornata successiva. Le schermate successive comunque tengono lo stesso schema di quello che ho già detto quindi il percorso dell'autobus con anche le linee che passano in tutte le varie fermate. Inizialmente WeBus è stato sviluppato come progetto diciamo universitario. Abbiamo sostanzialmente imparato a sviluppare sviluppando WeBus e quindi non nego che nelle prime fasi di sviluppo in realtà non ci fosse un accorgimento particolare per determinate questioni legate all'accessibilità. perché sono comunque cose che abbiamo imparato nel tempo appunto sviluppando l'app stessa. Quindi a questo punto direi di passare magari alla visualizzazione della dimostrazione che abbiamo preparato in modo da vedere quali sono le problematiche che abbiamo riscontrato nel tempo e che abbiamo tentato di risolvere. Esatto. Allora, quella che vi farò vedere in questo istante è una versione molto molto semplificata di WeBus che mostra appunto le problematiche che ha citato Rubens poco fa in questo caso per esempio per quanto riguarda la lista di preferite e la lista di fermate vicine. Adesso attiverò l'accessibilità di WeSolver e potete vedere come per arrivare alla fermata Piazza Minghetti vicina io adesso devo scorrere tutta la lista per portarmi poi in Piazza Minghetti. Chiaramente questo è un grosso problema per chi ha tante fermate preferite e attualmente in WeBus perché non conoscevamo altri mezzi per farlo abbiamo implementato uno stratagemma che è quello di, come diceva Rubens, di cambiare l'ordine delle fermate preferite con quelle vicine. però non è il modo corretto. Quello che vorrei farvi vedere adesso è come in teoria usando le best practices del sistema iOS in questo caso si dovrebbe fare. Adesso vi condividerò lo schermo del mio IDE. Dovreste riuscire a vederlo. E potete vedere questo è il controller che si occupa di mostrare le fermate autobus e in questo momento abiliterò una funzionalità molto bella e molto utilizzata dagli utenti per esempio non vedenti che è quella del custom rotor. Allora, in questo caso quello che io vorrei fare è saltare completamente le fermate preferite per andare alle fermate vicine e scorrere la lista. adesso ricompilerò l'applicazione e cercherò di farvi vedere cartella sviluppo 10 app 100 nuovi elementi webus scusate ma è stata persa la connessione con il device questo è il bello della diretta adesso non viene più riconosciuto il mio telefono perfetto dovremmo esserci fermate intestazione ecco qua cartella sviluppo webus webus fermate intestazione ok allora adesso facendo uno swipe con due dita intestazione dovremmo portarci a vedere il custom rotor contenitori lingua velocità voce parole contenitori intestazione caratteri parole caratteri contenitori chiaramente essendo in diretta non funziona scusate un secondo vi ricondivido lo schermo del mio IDE per capire cosa è successo praticamente per funzionare questo custom rotor ha bisogno che le viste per esempio la lista e ogni cella della lista siano accessibili e quindi in questo caso andiamo nella cella che si chiamerà stop fermate e abilitiamo l'accessibilità per la cella questo metodo è molto semplice fa delle cose dichiara che la vista è accessibile imposta i tratti cioè che la la cella è un bottone la label accessibile accessibile è questa qua dichiarerà il nome il numero della fermata e la location cioè la via c'è presente e dichiara anche un'altra cosa cioè le custom action cioè quando su una riga per esempio si fa uno swipe verso sinistra si avrebbe la possibilità se è implementato di vedere delle azioni per esempio aggiungere una fermata ai preferiti eliminare la fermata dei preferiti e compiere delle altre azioni questo però per un utente che utilizza il voiceover è impossibile da utilizzare quindi tramite questo adesso vedrete come si può avviare anche questo problema quindi questo deve avere fatto fermate intestazione ok adesso usa il rotore per accedere a vicine ecco qua preferite questi sono i due custom rotor che ho implementato cioè se viene selezionato presente il rotore delle vicine quello che succede facendo un flick verso l'alto o verso il basso è che si andrà direttamente alla lista delle vicine saltando completamente le fermate per vedere pulsante tocca due volte per visualizzare i prossimi passaggi azioni disponibili esatto è troppo alto se avete sentito l'ultima cosa che è stata detta dal voiceover è stata azioni disponibili queste azioni sono disponibili sempre con un flick verso l'alto o verso il basso piazza Mingate fondazza fermata numero 909 via Dante una barra di pulsante tocca due volte per visualizzare i prossimi passaggi azioni disponibili aggiungi ai preferiti ecco qua fondazza aggiunta ai preferiti questo sarebbe per ovviare al problema che le azioni che sono disponibili attraverso lo swipe normalmente per un utente che utilizza il voiceover non sono per niente accessibili quindi questa è un esempio di custom action attualmente non fa niente se non fare un announcement cioè dichiarare un test che deve essere letto dal voiceover che dice appunto fermata aggiunta ai preferiti ma potenzialmente questo può essere implementato aggiungendo la fermata nel database oppure insomma più ne ha più ne metta preferite quindi in questo modo abbiamo visto come funziona usa il rotore per accedere a preferite vicino e come funzionano le custom action porta Saragozza Villa Cassarini fermata numero 47 viale Aldini 232 pulsante risultati intestazione è che questa schermata qua con i risultati degli autobus cioè i prossimi passaggi degli autobus non è per niente accessibile adesso sentite cosa dice passando nella cella di un risultato via Corelli 1630 11A 7 39 satellite chiaramente per un utente non vedente sentire questo questo testo è qualcosa di incomprensibile immaginatevi un utente che sta prendendo l'autobus e sente queste frasi senza senso intanto la cella legge i suoi elementi interni a caso 11A via Corelli 7 52 risultati intestazione l'altra cosa fondamentale che quando visto che questa è una lista dinamica cioè carica dei dati da un web service fa una chiamata HTTP e mostra dei risultati ed è assincrona l'utente quando entra in questa schermata dovrà aspettare del tempo prima che i risultati vengono mostrati schermo oscurato quindi fondazza cancelle fermate torniamo indietro poi rientriamo porta Saragozza risultati intestazione potete vedere come un utente che entra in questa schermata si può trovare spiazzato adesso vedremo come risolvere anche questo chiaramente anche in questa schermata c'è il problema che abbiamo visto nella precedente 11A 11A via Corelli risultato uno deve scorrere tutta la lista per andare a selezionare un'altra linea e vedere i passaggi solo di quella linea adesso vi faccio vedere come si potrebbe risolvere allora dovreste riuscire a vedere questo è l'altro controller che si occupa di questa schermata ecco allora intanto abilitiamo i custom rotor per i risultati real time e per le linee così almeno un utente può saltare tranquillamente tutti i risultati e andare a selezionare una linea un'altra cosa che si può fare è mi piacerebbe che quando i risultati sono stati caricati il focus del voiceover sia alla prima cella del risultato così che venga letta effettivamente e questo si fa con questo metodo qua si cerca qual è la prima cella e la si posta come una notifica screen change nell'accessibility come abbiamo visto prima però questo codice se lo facciamo andare e lo facciamo girare in questo momento non funziona perché dobbiamo dichiarare la cella del risultato come accessibile e facciamo così chiaramente c'è un metodo già preparato però non fa nient'altro che dichiarare la cella accessibile questo serve per raggruppare tutti i suoi elementi in un unico elemento che viene letto insieme e poi l'accessibilità insomma l'accessibility label che viene letta dal voiceover a questo punto dovrebbe funzionare tutto ok sentiamo nel dettaglio capite bene che queste informazioni che ho appena letto sono molto chiare e indicano esattamente quello che sta per succedere la prima cella viene evidenziata come prima cosa successiva al caricamento dei dati e quindi un utente sa quando i dati sono stati caricati che cosa sta passando via autobus in quel momento o chiaramente in quella fermata è risultato 11 in arrivo in orario alle 7 1 direzione via Corelli risultati porta Santo Stefano cancelletto 28 intestazione perché così almeno un utente che apre questa schermata non si trova spiazzato ma sa che sta avvenendo un caricamento dati e sa che subito dopo il primo il prossimo passaggio dell'autobus in quella fermata in cui si trova in quel momento è l'11A che passa che va verso via Corelli arriva alle 7.39 l'autobus ha il numero 16.30 ed è un orario da satellite possiamo vedere anche come ci sono i rotori contenitori lingua velocità voce parole contenitori veramente al primo colpo non funzionano mai risultati intestinale esatto in questo modo l'utente può 11A in arrivo in orario alle 6 caratteri linee può selezionare la linea è selezionato 11A in arrivo in orario alle 6 risultati intestazione voglio esover non attivo un'altra funzionalità che è molto importante in webus è quella della mappa nella mappa attualmente vengono mostrate tutte le fermate relative alla posizione dell'utente per esempio a Bologna e l'utente può anche cercarle può vedere le indicazioni per arrivarci però in webus attualmente questa schermata è inesistente se l'utente è attivo il voiceover perché purtroppo quando abbiamo implementato quella funzionalità non sapevamo come renderla accessibile ma adesso avendo studiato ormai per un bel po' di tempo abbiamo capito che la soluzione pensate un po' sono i custom rotor anche qua è quello che dovranno fare dovranno mostrare i custom rotor è quello di scorrere tutte le fermate cioè i pin in sequenza in questo momento non sono implementati e guardate che cosa succede se non arriva nella mappa tutte le cose più strane vengono selezionate chiaramente un utente non vedente non vi sarebbe mai utilizzare una schermata del genere ma se invece abilitiamo il custom rotor dovreste no e li abilitiamo come al solito in questo modo giusto per curiosità questo metodo è fatto in questo modo intanto si dichiara il nome del rotore si prende l'elemento correntemente selezionato dal voiceover e in questo modo noi sappiamo se l'utente ha fatto un flick verso l'alto o verso il basso che sta a indicare semplicemente il fatto di voler scorrere all'indietro la lista fittizia delle fermate in questo caso o in avanti e poi costruisce la vista che in questo caso è una notation view che viene caricata e fatta vedere nella mappa e la restituisce come un risultato del custom rotor item allora avendola implementata abilitiamo anche questo altrimenti non funziona e facciamo andare ok voglio soverattivo web tab bar mata pannello 2d3 stazioni legal link e dovremo trovare il rotore fermate esatto se selezioniamo il rotore delle fermate quello che si potrà fare è garganelli fermata numero 113 via guerrazi 21 soltanto le fermate chius mori rizzoli fermata numero 109 via cancelletto 911 baraccano via san mamolo tranne in questo caso che evidentemente il focus del rotore si è perso tab bar vuoi esover non attivo questo è quello che volevo presentarvi alcune di queste funzionalità saranno implementate chiaramente su webass soprattutto questa della mappa perché mi sembra abbastanza fondamentale che un utente che tutti gli utenti in sostanza possano usufruire di questa di questa funzionalità chiaramente in webass non mostriamo soltanto fermate degli autobus ma mostriamo fermate dei tre cioè stazioni dei treni punti di interesse cose varie e per ogni tipo di dato mostrato nella mappa ci sarà un rotore associato queste funzionalità saranno implementate sicuramente entro la prima parte del 2021 perché come potete immaginare ci vuole abbastanza tempo per implementarle saranno poi implementate tutti i rotori che avete visto oggi su webass saranno implementati in sostanza chiaramente Roberto i rotori diciamo è qualche cosa non è un'invenzione proprio dell'ultimo giorno sicuramente quando è uscita la prima versione di T-Pass non esistevano infatti quello che all'epoca era stato fatto era stato fatto un controllo se il voiceover era attivo non mostravamo la mappa ma avevamo costruito una versione diciamo testuale della mappa quindi che in qualche modo fosse comunque navigabile però è interessante vedere questa questa soluzione dei rotori applicata anche alla mappa perché effettivamente io adesso l'ho scoperta in questo momento vedendo questo questo webinar effettivamente mi viene da notare che tutto sommato il fatto la distanza tra fare un'applicazione che sia accessibile e un'applicazione che non lo sia non è molto oneroso dal punto di vista della programmazione cioè alla fine non è che c'è da fare il doppio del lavoro c'è semplicemente da porre un po' di attenzione e applicare alcune alcune tecniche quindi io il consiglio che darei a tutti gli sviluppatori che ci stanno guardando magari chiaramente adesso in questi pochi esempi non è che si vuole essere esaustivi però sicuramente dare speriamo di aver dato un impulso un input magari ad approfondire un po' la parte dell'accessibilità le tecniche lavorare molto con questo rotore che mi sembra effettivamente anche applicato alla mappa è bellissimo perché chiaramente adesso noi l'abbiamo fatto vedere con delle fermate ma se in una mappa è anche più complessa ci sono diversi diversi elementi selezionando con il rotore quale elemento si vuole vedere comunque si riesce a navigare in qualche cosa che altrimenti effettivamente sarebbe una massa in forma di informazione che non potrebbe non potrebbe vedere quindi ecco speriamo che abbiamo dato se non altro degli spunti per lo sviluppo c'era Rubens qualcosa che volevi aggiungere? Sicuramente dal punto di vista dell'accessibilità di iOS posso dire che apparentemente sembra più avanzata di quella di Android mi vuole dirlo però in uno di quei casi in cui effettivamente c'è da ammettere che Apple sembra aver fatto le cose in maniera corretta purtroppo su Android siamo un po' indietro secondo me perché leggendo la documentazione a disposizione sul sito sono presenti diversi esempi linee guida che purtroppo non forniscono così tanti strumenti allo sviluppatore quanto delle linee guida da seguire diciamo che il punto di forza dell'accessibilità su Android è il fatto che seguendo le linee guida e facendo delle applicazioni semplici di per sé con qualche piccolo accorgimento dovrebbe funzionare tutto nascono i problemi quando l'applicazione diventa più complessa interfacce grafiche particolarmente cariche di informazioni se non adeguatamente trattate possono complicare la diciamo la fruizione dei contenuti che talkback dà all'utente talkback è il diciamo la controparte androidiana di voiceover il funzionamento diciamo non è così diverso da voiceover tant'è vero che anche in talkback esiste una sorta di rotore si chiama menu contestuale locale e fondamentalmente di base alle stesse funzioni anche del rotore cioè permette di scegliere cosa scorrere applicando l'azione avanti o indietro quindi consente di selezionare i caratteri le parole le linee i paragrafi ma credo che la funzione più utile nell'ambito di webass sia in realtà il predefinito predefinito scorre semplicemente i contenuti cliccabili o i contenuti che hanno una descrizione vi condivido brevemente lo schermo e vi faccio vedere la mia demo che è un po' più ristretta rispetto a quella di Roberto non so se si vede si 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 vede ok si diciamo che adesso io sono in modalità predefinita cioè ci sono tre avvisi non lessi lo scorrimento avanti e indietro seleziona quei controlli che sono appunto con cui si può interagire quindi la campanella degli avvisi il tasto per aprire il menu il microfono per vettare la fermata da ricercare e poi le fermate preferite il primo scoglio diciamo da affrontare quando si sviluppa il layout dell'applicazione perché tutto quello che io ho fatto in questa dimostrazione per quanto riguarda l'accessibilità l'ho fatto attraverso il layout xml dell'applicazione per chi non lo sa android ha una parte di grafica definita attraverso un layout in file xml e una parte di codice che è in file in questo caso kt che sono i file di kotlin perché webass sviluppate in kotlin ma java nel caso di java insomma il funzionamento è lo stesso l'approccio più ingenuo per disegnare diciamo i controlli a schermo è quello di semplicemente mettere le viste che sono già a disposizione su android quindi nel caso del microfono dell'icona del menu dell'icona per gli avvisi sono semplicemente delle image view quindi delle viste che servono per mostrare delle immagini che hanno però il piccolo problema di non avere una descrizione perché finché si utilizzano dei testi talkback se la cava abbastanza bene tutti i testi che incontra li legge e fin qua credo non ci siano problemi le immagini non avendo un testo non possono essere lette è necessario applicare al tag xml dell'immagine un attributo che si chiama content description è un attributo che contiene semplicemente il testo da leggere in modalità talkback qualora non fosse presente questo attributo talkback arrivato a quell'immagine leggerebbe senza etichetta pulsante che ovviamente in un'app che magari ha tantissime immagini non è molto bello perché scorrendo è pieno di senza etichetta pulsante che non ha alcun significato ci sono però alcuni casi in cui le immagini non andrebbero lette perché sono delle immagini decorative nell'esempio in alto a destra dell'icona della campana per gli avvisi la campana ha un piccolo una piccola medaglietta un piccolo badge in basso a destra con un numero che indica quanti sono gli avvisi non letti dall'utente poi premendo la campana si andrà nella schermata con tutti gli avvisi però non la vediamo in questo caso la medaglietta è un'immagine per evitare che talkback passi sulla medaglietta e si concentri solo sulla campana è necessario scegliere due vie o utilizzare l'attributo important for accessibility con il valore no che indica semplicemente a talkback di ignorare completamente quella quell'immagine oppure inserire una content description con valore chiocciola null in questo modo intanto Android Studio capisce che noi abbiamo lasciato vuota la descrizione dell'accessibilità intenzionalmente perché riteniamo che non sia importante ai fini dell'accessibilità come in questo caso non è questa medaglietta perché l'informazione che contiene verrà letta sull'immagine della campana quindi ci scomparirà il warning di Android Studio e poi talkback non passerà attraverso quel controllo e questa è una prima cosa da tenere in considerazione è possibile magari che sviluppando applicazioni in maniera rapida si tenda a dimenticarsi che questi piccoli accorgimenti sono importanti e così facendo poi l'app non risulta per niente accessibile quando in realtà basta veramente una riga di XML per risolvere il problema il secondo problema è che è possibile come abbiamo visto anche su iOS che all'interno di un gruppo di viste è l'esempio che faccio è questo qua della riga della fermata adesso non so quanto sia alto il volume di talkback però ve lo dico io a voce nel caso fosse troppo basso spero che non mi copra nel caso fosse troppo alto io adesso vi sto presentando una modalità già sistemata quindi funziona già come dovrebbe funzionare però il funzionamento di talkback per quanto riguarda la lettura di contenuti appartenenti a più viste raggruppati da un solo contenitore non sempre è quello che noi ci aspettiamo in realtà è abbastanza logico diciamo che più che altro non sempre è quello che noi vorremmo fosse in base a come abbiamo strutturato il nostro layout in particolare talkback legge tutti i contenuti di view group quindi sto parlando di constraint layout relative layout linear layout che sono i tipi di contenitori più utilizzati diciamo nello sviluppo android li legge in ordine legge tutti i figli in ordine quindi una prima cosa che possiamo fare diciamo se abbiamo dei contenuti abbastanza semplici è semplicemente scriverli nell'ordine in cui vorremmo fossero letti però anche in questo caso c'è la possibilità che non ci vada bene come struttura cioè è possibile che la struttura del layout non corrisponda alla struttura logica delle informazioni quindi un altro approccio che è quello consigliato dalle linee guida fra l'altro o meglio è uno dei pochi esempi che le linee guida offrono è quello di raggruppare all'interno del layout le viste in ulteriori layout in modo che talkback capisca che le informazioni contenute in quel layout abbiano un senso comune non è l'approccio che ho usato in questo caso perché purtroppo ha un problema nel caso in cui noi volessimo del dinamismo nelle informazioni o comunque volessimo diciamo far dire a talkback una frase in particolare questo non ce lo permetterebbe perché è un approccio che consente di leggere i dati solo così come sono allora quello che ho fatto magari vi condivido lo schermo del codice così è più chiaro credo si veda forse perché non vedo il rettangolo verde intorno però spero che sia condiviso è stato utilizzare il data binding un'altra tecnica che usiamo su Webus è quella del data binding tra gli strumenti che utilizziamo ci sono il data binding il view model il mutable live data quindi praticamente molto della parte logica dell'app è gestita attraverso il layout è una classe in particolare meglio un file di Kotlin che è questo qua consente di gestire dinamicamente le informazioni che una una vista deve deve far diciamo come talkback dovrebbe leggere una determinata vista innanzitutto tutte le stringhe sono contenute in un file di testo di traduzione citando il Dev Summit 2019 di Google l'accessibilità non esiste solo negli Stati Uniti nel nostro caso non esiste soltanto in Italia anche se in questo caso ci sono delle stringhe non tradotte però non mi importa però diciamo che l'utilizzo delle stringhe ci consente di parametrizzare determinate frasi nel caso di della riga della fermata in WeBus come informazione dinamica abbiamo il fatto che la fermata sia stata aggiunta ai preferiti o meno quindi in basso a destra è presente una stella vediamo se riesco a spostare questo pannello è presente una stella che adesso non si vede perché è necessario mostrarla presente una stella che è piena nel caso in cui la fermata fosse nei preferiti vuota nel caso in cui non fosse tra i preferiti gli elementi che vediamo qua a schermo sono il testo che indica la distanza dell'utente dalla fermata il testo che indica il nome della fermata il numero della fermata è la via della fermata oltre che la stella già citata perché ho usato un approccio diverso da quello spiegato nelle linee guida perché purtroppo i vari comparti di Google quello che si occupa dell'accessibilità quello che si occupa dei layout quello che si occupa del recycler per le liste sembra che vadano molto veloci nello sviluppare le cose ma che non parlino tra di loro o meglio ogni anno Google presenta un nuovo sistema che è completamente diverso da quello dell'anno prima e sarebbe necessario rivedere praticamente tutte le app fatte fino a quel momento Webus fa un grosso uso di constraint layout i constraint layout sono stati proposti da Google per evitare di innestare troppe viste al loro interno quindi l'idea è quella che utilizzando in constraint layout tutte le viste al suo interno debbano essere flat diciamo sullo stesso livello ovviamente questo va in contrasto con quello che dice Google per quanto riguarda l'accessibilità perché se io devo raggruppare diverse viste in diversi gruppi all'interno di altri view group per far sì che Talkback legga le cose in una maniera comprensibile stiamo dicendo due cose opposte quindi l'intervento più pulito che mi sembra si possa fare in questo caso è mettere come attributo alle viste che non vanno lette important for accessibility no in questo modo come detto prima la vista verrà ignorata da Talkback dopodiché possiamo decidere di impostare come non importanti per l'accessibilità anche le viste che andrebbero lette da Talkback anche se c'è un attributo che permette al container di non far leggere tutti i fili però in questo caso abbiamo messo no praticamente su tutte le viste presenti in modo che così non vengano lette e poi nel contenitore padre è presente un important for accessibility yes che in realtà in questo caso non dovrebbe essere necessario ma soprattutto un content description che richiama la funzione contenuta nel file precedente che è una frase che semplicemente dice fermata con quattro parametri e quindi andrà letta come fermata nome della fermata numero della fermata via della fermata e la distanza dell'utente una cosa fondamentale per quanto riguarda alcune alcuni contenitori che magari noi vogliamo fossero letti in determinato modo quindi con questa tecnica è che i contenitori devono essere selezionabili e cliccabili in questo caso questo contenitore lo era già perché contiene la logica per il click che porta alla schermata della fermata un altro esempio è quello della stella invece che è un'immagine che per motivi di praticità non è la tecnica giusta però per motivi di praticità nel click è sotto un frame layout invisibile che è quello che gestisce poi il click per mettere la fermata nei preferiti o toglierla dai preferiti questo frame layout non era focusable senza questa riga la content description non funziona quindi soltanto le cose effettivamente cliccabili possono essere lette con la content description dopo di che io non ho molto altro da aggiungere se non che nella dimostrazione dell'app possiamo vedere che effettivamente la stella è cliccabile con tra l'altro il contorno del frame layout una volta che viene attivata talkback fornisce un messaggio di conferma dell'avvenuta azione soltanto perché io ho impostato che una volta che viene eseguita l'azione viene mostrato uno snackbar che è un messaggio in basso allo schermo che viene automaticamente letto dal talkback il problema è che magari noi non vogliamo dire all'utente o meglio non vogliamo mostrare qualcosa a schermo che diciamo faccia renda evidente questa questa azione che è stata eseguita ma per un utente non vedente è necessario comunque fargli sapere che è successo qualcosa a questo punto c'è tutta un'altra serie di strumenti che possiamo utilizzare per quanto riguarda talkback che però al momento in questa dimostrazione non sono presenti si tratta degli accessibility service cioè l'accessibility service è un service che è una classe presente su android come tante altre di sistema che permettono di eseguire azioni particolari che consente tra le altre cose di eseguire un annuncio all'utente quindi una volta impostato tutto il service in modo che possa parlare in seguito a determinati eventi possiamo anche evitare in linea teorica di mostrare la snack bar anche se su alcune versioni di android per esempio anche con le notifiche è necessario che comunque questo servizio sia collegato a una vista quindi diciamo che il discorso si complica anche a seconda dell'API che abbiamo impostato come target come minimo al di là di questo io non ho molto altro da aggiungere se non il fatto che appunto la gran parte del lavoro sta nella fase probabilmente di analisi cioè cercare di strutturare l'applicazione in una maniera semplice in modo che non sia complesso implementare queste funzionalità e soprattutto ricordarsi di aggiungere le content description perché è importantissimo e soprattutto Android Studio ce lo ricorderà e da poco se non sbaglio anche il Play Store una volta caricata l'app fornisce un sacco di warning utilissimi per indicare tutte le label o tutte le immagini che non abbiamo fornito di descrizione quindi una sorta di accessibility first pensare l'applicazione già con l'ottica della flessibilità dell'accessibilità quindi cercare appunto di mantenere le schermate semplici poche informazioni su ciascuna schermata oggi le molte applicazioni magari non riescono ad essere accessibili anche perché effettivamente hanno delle interfacce molto cariche che danno molte informazioni agli utenti nel nostro caso noi cerchiamo di mantenere le schermate semplici cerchiamo anche di per quanto possibile di tenerci aggiornati su sulle tecniche dell'accessibilità chiaramente non pretendiamo di essere i massimi esperti però ci applichiamo io quello che mi sento di dire è che alla fine per quanto poi l'applicazione può essere ben sviluppata il programmatore può aver utilizzato tutte le tecniche alla fine secondo me è fondamentale anche una buona fase di test e la cosa migliore magari è far testare l'applicazione poi alla fine a un utente non vedente ad avere dei feedback dall'utilizzatore finale da questo punto di vista perché bene o male se anche noi diciamo testiamo l'applicazione qualcosa ci sfugge sempre molti feedback interessanti non ci sono venuti proprio sul campo facendo utilizzare tutti i giorni l'applicazione alle persone che quindi possiamo anche aumentare diciamo una certa una certa quantità di feedback che ci hanno aiutato nel tempo a ottimizzare l'applicazione non so se ci sono delle c'è qualche domanda da chi ci segue mentre aspettiamo se arriva qualche domanda in una chat ne avevo un paio anch'io la prima riguarda soprattutto Roberto Rubens anch'io sono uno sviluppatore mobile anche se non ho la vostra esperienza sull'accessibilità proprio di applicazioni mobile accessibilità nelle applicazioni mobile nel senso che non ho sviluppato applicazioni a largo uso come quella del vostro caso diciamo comunque quando si sviluppano applicazioni mobile c'è sempre la battaglia tra sviluppare un'applicazione notiva versus una con tecnologie cross platform e voi siete andati sul nativo anche perché avete sfruttato a fondo quello che offrono le piattaforme quindi volevo capire se uno vuole effettivamente arrivare a offrire quello che avete fatto voi l'unica soluzione è andare su un'app native oppure ci sono cioè non so neanche se conoscete poi altre tecnologie cross platform quindi se avete fatto delle valutazioni come è stato un po' il processo in tal senso ma in realtà noi diciamo che tendenzialmente utilizziamo piattaforme native sempre cross platform ci abbiamo provato qualche volta però non ci hanno mai soddisfatto appieno nel senso che comunque non sono non hanno mai quel look and feel non hanno mai le funzionalità implementate al 100% e tra l'altro ho seguito anche il webinar che c'è stato di recente proprio su questo tema cioè sulle applicazioni cross platform e l'accessibilità e anche lì evidenziavano il fatto che comunque si può fare ma farlo bene per esempio l'utilizzo dei rotori l'utilizzo delle custom action eccetera eccetera ha bisogno di un effort abbastanza a volte abbastanza anche importante quindi forse conviene sviluppare in attivo in realtà magari su questo non abbiamo fatto neanche un grandissimo approfondimento perché diciamo a livello di scelta aziendale noi abbiamo deciso di sviluppare sempre le applicazioni in maniera nativa perché sicuramente il risultato finale è migliore è chiaro che uno può anche le cross platform poi nel corso del tempo sono migliorate questa è una scelta che noi in realtà abbiamo fatto anni fa quindi probabilmente nel frattempo molte cose sono migliorate sicuramente però diciamo noi non è una scelta che abbiamo legato soltanto al discorso dell'accessibilità ma in generale lavoriamo soltanto sul nativo e dal punto di vista dell'accessibilità tutto sommato siamo stati avvantaggiati perché sul nativo è più facile ottenere certi risultati prima ho visto che intanto è arrivata una domanda comunque volevo un attimo sempre rimanere collegato a questo argomento una curiosità quella relativa un po' alle statistiche di utilizzo tra la versione iOS e Android nel senso per quanto ne so io persone con disabilità visiva si trovano meglio con iOS rispetto a Android però ecco il mio è molto una sensazione data da voci di amici e così via invece volevo chiedere a voi che avete proprio un'applicazione che è utilizzata da utenti se avete delle statistiche in tal senso direi adesso non ho i numeri alla mano ma possiamo comunque confermare sicuramente quello che dici diciamo nel corso del tempo sicuramente le statistiche di Android sono aumentate diciamo complessivamente perché è una piattaforma probabilmente più diffusa e abbiamo visto nel corso degli anni diciamo un aumento della più preponderante della versione Android rispetto a quella iOS per quanto riguarda invece il specifico sottogruppo dei non vedenti effettivamente è ancora molto più utilizzata la versione iOS ok grazie ok c'è Federico che scrive buongiorno la mia domanda riguarda la fase di testing vi siete rivolte a un ente specifico oppure conoscevate già le potenziali utenti con disabilità a cui far testare l'applicazione in quanto sviluppatore trovo questa parte la più difficoltosa diciamo noi siamo stati molto aiutati appunto dall'Unione Italiana Cechi dal Cavazza con il quale abbiamo fatto appunto un tipo di collaborazione basata sul feedback cioè praticamente noi sono diciamo dei nostri beta tester che noi prima di pubblicare l'applicazione diciamo in produzione facciamo fare un test anche appunto a delle persone non vedenti che ci danno dei feedback a volte anche molto dettagliati molto particolari appunto il fatto per esempio il primo esempio che ha fatto Roberto del fatto che c'era una lista di fermate nelle vicinanze che appariva dopo tutta una lista di preferiti per noi non ce ne eravamo neanche accorti è stato un feedback invece che ci è arrivata proprio dal Cavazza perché nell'utilizzo effettivamente quando loro volevano sapere qual era la fermata più vicina prima di scoprire queste informazioni dovevano scorrere tutte quelle che avevano inserito tra le preferite questo è un esempio che diciamo uno dei che mi viene in mente adesso ma ce ne sono state nel corso del tempo tantissimi altri spostare modificare le liciture spostare da una schermata all'altra riprogettare magari anche un'interfaccia spezzandola in due diciamo che abbiamo un po' seguito anche anche i loro consigli poi c'è stato questo passaggio da tbass a webbass su cui noi per un periodo abbiamo mantenuto le due le due applicazioni e poi abbiamo diciamo spinto per passare a webbass che adesso è la nostra applicazione su cui puntiamo e su cui abbiamo anche riportato per tutta l'esperienza in ambito di accessibilità che avevamo fatto su tbass e adesso nella prossima versione che rilasceremo ci saranno alcuni miglioramenti tra cui un uso molto più spinto del rotore come ci ha fatto vedere Roberto Pincio Bene, approfitto intanto io per un'altra domanda se non arrivano nel frattempo altre volevo chiedere come nasce un po' l'esigenza di affrontare il tema dell'accessibilità in modo così importante nel senso è stato qualcosa che è venuto da voi oppure da chi vi ha commissionato l'applicazione è stato un po' No, diciamo è stata una cosa che è venuta da noi intanto perché l'applicazione non ce l'ha commissionata nessuno è stata diciamo un'iniziativa nata in un momento in realtà in cui ancora non c'erano tantissime alternative perché tbass nel 2013 a Bologna è probabilmente stata la prima applicazione di un certo livello su questo ambito su questo settore forse è nata anche un po' per caso questo tipo di collaborazione però diciamo è una cosa che su cui ho subito puntato anche perché poi nel frattempo WeBus ha mantenuto questa idea di funzionare un po' nel locale perché nel frattempo non abbiamo l'ambizione magari di competere con Colossi come Movit Google appunto eccetera però volevamo magari concentrarci su avere un prodotto che fosse più accessibile magari degli altri che almeno in un primo momento erano più magari orientati ad altri obiettivi diciamo WeBus è un'applicazione che è gratuita è più un nostro un progetto su cui noi sperimentiamo appunto tecniche di programmazione accessibilità ci piace fornire un servizio per la città non è una non facciamo pubblicità per esempio in WeBus anche questa è stata una scelta che abbiamo fatto a un certo punto quindi è proprio un'applicazione che il cui scopo è proprio quello di dare un servizio specialmente alle persone che magari fanno più difficoltà a trovare questo tipo di servizi accessibili Ok molto interessanti altre domande al momento non mi sembra di vederle tanto vedo che c'è collegata anche Valentina che è una ragazza con cui probabilmente faremo non il prossimo webinar ma quello successivo ancora parleremo del tema comunque ne approfitto per fare un po' scusate se ci sono persone che vogliono contribuire e darci anche loro degli ulteriori feedback sull'accessibilità sono sarei felici se ci contattassero c'era Michele Michele Landolfo avete collaborato anche con lui sì Michele è uno degli organizzatori di accessibili adesso appunto che fa parte anche di Bologna appunto ecco raccontava e comunque avete collaborato proprio per ottenere questi risultati il consiglio sicuramente è quello di provare a contattare le istituzioni locali per avere il feedback poi ovviamente dopo dipende anche dal tipo di applicazione ci saranno dei contesti in cui ritrovate persone disponibili anche gratuitamente a aiutarvi perché comunque c'è molto interesse da parte di persone con disabilità di avere dei servizi funzionanti perciò sono ben disponibili anche a fare dei test infatti Michele è stato molto disponibile e molte persone ci ha aiutato anche lui a trovarle chiaramente diciamo noi nello sviluppo più beta tester abbiamo e più le informazioni che ci arrivano sono vicche e ci aiutano a migliorare ok direi che se non ci sono altre domande ringraziamo nuovamente i ragazzi di Rubens Roberto e Simone per tutte le informazioni che ci hanno trasmesso sicuramente molto utili e anche non facili reperirle proprio perché raccontano tutta la loro esperienza buono io ricordo l'appuntamento per indicativamente metà ottobre poi vi faremo sapere più di preciso per il prossimo webinar e adesso Fabiana vuoi dire qualcosa un saluto finale oltre ovviamente un ringraziamento a tutti gli speaker a te Stefano per la puntuale e precisa presenza ai tuoi meetup ovviamente quando ci sarà la prossima data online sulla nostra piattaforma sarà pubblicato come sai io faccio anche un invio una newsletter quindi chi si iscrive ai meetup riceve anche un calendario via mail quindi saprete tutte le informazioni sul prossimo meetup vi ringrazio nuovamente ci vediamo al prossimo appuntamento allora grazie grazie a tutti ciao buona serata ciao a tutti ciao ciao